ciao a tutti oggi prepareremo la pasta e lenticchie il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono acqua lenticchie pasta corta cipolla coste di sedano carote pomodori piccadilli alloro prezzemolo olio dado vegetale bimbi sale e pepe andiamo via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla le coste di sedano le carote e i pomodorini e facciamo dritare per cinque secondi a velocità 7 finiamo un po sul fondo del boccale adesso aggiungiamo l'acqua il dado vegetale e le lenticchie e facciamo cuocere per 30 minuti 100 gradi anti orario velocità 1 adesso aggiungiamo il sale il pepe la foglia di alloro e il prezzemolo e facciamo cuocere per 15 minuti 100 gradi anti orario velocità 1 adesso versiamo l'olio e la pasta e la pasta e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione nel nostro caso 10 minuti 100 gradi anti orario velocità 1 la pasta è cotta andiamo a dare una mescolata verificate sia la cottura che se per voi il gusto del sale è giusto o meno e andiamo a impiattare pasta e lenticchie grazie e alla prossima ricetta grazie grazie grazie